Grazie, grazie Ingegnere Battista, è una giornata importante per la Prismia, una giornata importante per la Campania, per Pozzuoli. Innanzitutto i miei complimenti, sono doverosi. In un momento delicato, difficile, per la situazione internazionale, per il nostro Paese, avere un grande gruppo che decida di investire nelle proprie attività e quindi nel futuro è qualcosa che ci dà incoraggiamento ad andare avanti. Ho visto all'esterno, la vedremo un attimo all'interno, è una nave bellissima che consentirà di fare veramente un lavoro straordinario. La cosa che mi colpisce è un po' questa, Prismian sta diventando in qualche modo leader mondiale, credo ci sia qualche altro gruppo, uno, forse due, sono in competizione con Prismian. Ho sempre detto negli anni scorsi che l'Italia, nel corso di questi decenni, è diventato un Paese che non ha un sol punto di eccellenza mondiale, non c'è nessun campo nel quale possiamo dire che siamo i primi al mondo. Se continuiamo così potremmo dire tra qualche anno che Prismian è l'eccellenza mondiale per quanto riguarda la posa dei cavi elettrici e telecomunicazione, questo sarebbe un motivo di grande onore, di grande orgoglio per l'Italia oltre che per Prismian. Ho visto che si parte con un investimento di un miliardo e due per una rete di collegamento tra Gran Bretagna e Germania, è un appalto importante, mi auguro ovviamente che il governo italiano segua con attenzione, abbiamo avuto modo di sensibilizzare il governo anche su appalti che sono in corso per la fornitura di fibra ottica, mi auguro che il governo comprenda che anche quando facciamo gare per le forniture di fibra ottica dobbiamo garantire la qualità del prodotto che acquistiamo, ma qualcosa coincide in qualche modo, in termini assolutamente corretti, con un elemento di garanzia in più che diamo alle imprese italiane rispetto alla concorrenza straniera e in modo particolare orientale. Prismian è una grande realtà che va tutelata senza nessun privilegio particolare, ma semplicemente scegliendo come Sistema Italia di acquisire prodotti di qualità, perché quando parliamo di qualità ovviamente non abbiamo preoccupazioni a fare gare, a confrontarci anche con altri prodotti, lo dico perché non vorremmo avere problemi delicati per quanto riguarda qualche stabilimento tipo Battivaglia, ovviamente di fronte a offerte fuori mercato per noi avrebbe un momento di criticità, ma oggi è una giornata di straordinaria importanza, di grande fiducia, di grande speranza nelle possibilità di sviluppo di tutto il gruppo. l'amico sindaco Figliolia faceva accenno, lo diceva l'ingegnere Battista, ad un ulteriore investimento che sarà concretizzato nei prossimi mesi e anni nell'area ex soffer. Dopo una lunga sofferta trattativa, è stato firmato questo contratto di compravendita di quell'area, sarà un pezzo di uno sviluppo produttivo e territoriale davvero importante, perché insieme con questo investimento si sbloccherà prevedibilmente a breve, sulla base delle decisioni urbanistiche che prenderà il comune di Pozzuoli, anche un intervento importante che riguarda il fronte di mare di Pozzuoli, ne avevamo parlato tante volte con Enzo Figliolia, questa è una delle città più belle che abbiamo in Campania, più cariche non solo di storia, ma anche più belle dal punto di vista delle possibilità turistiche, dell'attrattività che ha l'area dei campi flegrei, avremo fra l'altro Procida, Capitale della Cultura, Pozzuoli sarà investita da flussi turistici importanti, abbiamo fatto investimenti rilevanti negli anni scorsi, da Rione Terra al centro storico, allo spostamento di una linea ferroviaria che insiste nel cuore della città, a investimenti infrastrutturali che dobbiamo completare, questa benedetta tangenziale di collegamento diretto dall'uscita nell'autostrada alla tangenziale fino al porto può completare un ridisegno urbanistico davvero straordinario, di cui a merito soprattutto Enzo Figliolia, la sua amministrazione, il lavoro straordinario che ha fatto in questi anni, nonostante il suo caratteraccio, ma dal punto di vista amministrativo, è bravo e ha fatto un ottimo lavoro. Mi sono preoccupato quando ha detto che mi invitava per il prossimo taglio del nastro, perché ogni volta che mi invita per un taglio del nastro ci rimetto 20 milioni di Euro, quindi sono tagli pesanti quelli che facciamo a Pozzuoro, ma veramente li facciamo con grande piacere, perché poter investire risorse, trovando amministrazioni pubbliche e comuni che investono, dinamici, che si muovono, che riqualificano i territori, che creano opere pubbliche, è qualcosa che incoraggia anche noi ad andare avanti, quindi noi abbiamo interesse ad investire le risorse, non siamo una banca pubblica, abbiamo interesse a riversare sui territori le nostre risorse. Mi interessa anche fare un'ultima considerazione, Pozzuoro è la dimostrazione che diversamente da un elemento di senso comune, di sottocultura che è ormai diffuso in Italia da decenni. La trasformazione urbana è assolutamente compatibile con la difesa e la tutela dell'ambiente, la valorizzazione dell'ambiente, la protezione del territorio. In Italia è cresciuta una sottocultura della mummificazione, non si può fare niente, ogni cantiere che si apre è un delitto, voi siete la dimostrazione, come Roberto Geruzzi, siete la dimostrazione che si può ridisegnare una città, elaborare un disegno di trasformazione urbana nel segno della sostenibilità ambientale, della valorizzazione dell'ambiente, ma anche della grande architettura contemporanea, perché anche questo arricchisce un territorio, non lo impoverisce. Quindi siete davvero un esempio di come possa camminare insieme la tutela dell'ambiente, la trasformazione del territorio, la creazione di sviluppo con investimenti anche industriali, anche in pezzi di territorio estremamente delicati. Ovviamente ci muoviamo tenendo conto anche della storia industriale che abbiamo nel nostro Paese e quindi sono convinto che l'investimento che annunciava l'ingegnere Battista, che veniva sottolineato anche da Enzo Figlioria, sarà collocato nell'ambito di un ridisegno urbanistico davvero straordinario della realtà di Pozzuoli. Allora, noi ci vedremo, se Dio vorrà, tenete via la mascherina perché siamo a centomila contagi Covid, poi non dite che io sono assillante. È bene pensarci prima che ci sia l'esplosione del Covid, non dopo, questa è un'altra cattiva abitudine che abbiamo. Quando bisogna fare appello alla ragione bisogna compiere sempre atti di eroismo per fare cose semplici. Teniamoci questa maledetta mascherina sempre, anche quando siamo vaccinati, perché il contagio può arrivare, perché passano quattro mesi e il livello di protezione contro il Covid diminuisce. Allora, mi auguro che ci vedremo, se Dio vorrà, fra qualche mese per inaugurare anche questa straordinaria infrastruttura di collegamento con il porto. E per il resto, ovviamente, auguriamoci che queste giornate non siano segnate dalla pesantezza delle immagini che ci arrivano dall'Ucraina. Occhie sto venendo qui all'ingegnere Battista, ma abbiamo ricadute rispetto a Prismian della guerra. Mi ha detto per ora no, però vediamo come evolvono le relazioni internazionali, che Dio sono fra quelli che si augurano che al di là della solidarietà che è doverosa, rispetto alla quale la Campania ha aperto le braccia, si possa sviluppare in Italia un ragionamento un po' diverso da quello che io vedo ancora in atto nel nostro Paese. Ogni dibattito che seguo sull'Ucraina non ha un passato e non ha un futuro. Non si capisce che cosa è successo per arrivare alla guerra negli ultimi sei mesi. E soprattutto non trovo mai la risposta ad una domanda che dovremmo farci soprattutto noi italiani. Qual è l'obiettivo a cui stiamo lavorando? Qual è l'obiettivo? Cioè come immaginiamo di uscire da questa tragedia? E mi auguro ovviamente che ci sia qualcuno che si cominci a porre questi interrogativi, perché fotografare gli orrori della guerra è una cosa semplice, è una cosa più complicata trovare le soluzioni alle guerre, trovare i punti di equilibrio tra le forze in campo, possibilmente lavorando prima che ci sia il bagno di sangue. Oggi anche i margini per le trattative sono estremamente ridotti e tuttavia al di là della ricerca di un compromesso io non credo che ci siano soluzioni se non quelle catastrofiche che qualcuno ha anticipato facendo cenno all'uso di armi atomiche tattiche. Un passo alla volta mi pare che ci stiamo avvicinando a soglie di pericolosità inimmaginabili per l'Europa e per il nostro Paese. Dunque ci auguriamo che nelle prossime settimane e mesi potremo incontrarci di nuovo pozzuoli per inaugurare belle opere, ma avendo un animo più leggero e avendo davanti agli occhi una prospettiva più serena di sviluppo per il nostro Paese e per l'Europa e soprattutto di pace. La pace va costruita, perché non arriva da sola, va costruita con intelligenza, con prudenza, in qualche caso abbassando i toni, perché se alziamo i toni tu e io non succede niente. Se li alza qualcuno che magari ha la responsabilità della politica estera forse non è la cosa più utile per trovare i punti di compromesso necessari a questo punto. Intanto caro ingegnere grazie per l'impegno che avete profuso, grazie per questo investimento, grazie per la fiducia che ci date per il futuro del nostro Paese, del nostro sistema produttivo, del mondo, del lavoro. Bocca al lupo e complimenti. Grazie.